Rifugio sei per me, i canti riempi il cuore mio, e se avrò timore, io non mi arrenderò, avrò fede in te, solamente in te. Possa il debole gridare la mia forza in Gesù. Di giorno penso a te, la notte sogno te, mio Dio. Gioia e pace sono il dono che tu dai a me. Vedentore mio, con la fede in te, Anche il timido dirà la mia forza in Gesù. Rifugio sei per me, Di canti riempi il cuore mio, e se avrò timore, io non mi arrenderò, avrò fede in te. Amen. Un cordiale saluto da parte mia e volevo trasmettervi all'inizio di questo momento di riflessione che avremo insieme, Il piacere di essere ancora una volta con voi. Ringrazio per gli organizzatori del Bibbia Festival 2023 per aver pensato a me per aprire questo percorso, che ormai da diversi anni, adesso Giovanni non mi ricordo, otto anni, facciamo Fate come Chiesa e credo che sia un percorso che dobbiamo continuare a sostenere, e a portare avanti perché è il percorso che ci permette di fermarci a riflettere insieme e anche con altre persone rispetto al contenuto che la Bibbia ci vuole trasmettere. Voglio ricordarvi che questi programmi andranno avanti per un mese fino al 27 maggio, come ha detto giustamente Giovanni Benini, sono organizzati sia la mattina che il pomeriggio del sabato nella maggior parte delle ricorrenze con dei programmi specifici e questo pomeriggio, a complemento di quello che condividerò con voi questa mattina, avrete la possibilità di seguire il professor Richard Le Mans in una videoconferenza nella quale parlerà della grande bellezza dell'Apocalisse, sottolineando tutti gli elementi poco conosciuti che dimostrano il messaggio positivo che è contenuto nell'Apocalisse. Richard Le Mans interverrà alle 16.30 questo pomeriggio, sempre qui in questa sala. E' stato tra l'altro uno dei miei docenti durante il percorso di formazione teologica al seminario di Colonsh Tussalev, lo è stato anche di Paolo Benini, no, comunque l'ha incrociato perché sicuramente è stato un periodo anche in cui era presente lì nel seminario e sicuramente è uno studioso della parola di Dio, uno specialista del Nuovo Testamento, quindi avrà sicuramente un messaggio significativo per noi. Prima di addentrarmi nel tema che volevo condividere con voi, vi prego di chinare il capo per una preghiera. Nostro Dio, nostro Padre che sei nei cieli, noi umilmente ci rivolgiamo a te anche questa mattina perché tu possa sostenerci, accompagnarci nella riflessione, nella meditazione della tua parola, nella meditazione di questo ultimo libro del canone biblico che rappresenta il culmine della storia. Signore, aiutaci a poterne usare nella nostra esperienza quotidiana perché rafforzi la nostra fede e la nostra certezza che tu sei colui che ha in mano le redini della storia. Te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Colgo l'occasione per salutare anche chi ci segue via streaming. Abbiamo dei grandi mezzi tecnologici che solo dieci anni fa non pensavamo di poter usare. e da tanto io penso molto spesso questi mezzi tecnologici volendo possono permetterci di raggiungere un numero importante di persone, forse più di quante ce ne sono qui in questa sala in questo momento. e anche questo è una riflessione che è utile fare. Allora, vorrei partire con la presentazione che avevo proposto, che ho proposto di offrirvi relativamente all'Apocalisse. Quindi, se possiamo far partire il PowerPoint, il titolo della mia riflessione è Non mi aspettavo un'Apocalisse. E come sottotitolo abbiamo scelto il vero messaggio dell'ultimo libro della Bibbia è che il bene alla fine trionferà. Ho apprezzato molto l'immagine che questa mattina, aprendo le nostre funzioni, Ugo Zanolari ha voluto condividere con noi, facendo riferimento alla partita della sua squadra del cuore la partita di calcio della sua squadra del cuore o una qualsiasi partita sportiva. L'ho apprezzato molto perché l'Apocalisse in questo è molto moderna e vedrete alla fine, ricordatemelo se me ne dovessi dimenticare ricordatemi della partita perché credo che sarà un riferimento interessante farlo alla fine del percorso di riflessione che vi propongo di fare. Allora, il vero messaggio dell'Apocalisse è che alla fine il bene trionferà. E questo è importante, è importante perché è la premessa non riesco a mandare avanti la diapositiva, scusate ha una premessa, è un messaggio importante perché ha una premessa questo messaggio e la premessa non si trova nell'Apocalisse ma si trova sempre in un libro che è stato scritto dal medesimo attore Giovanni questo libro è il primo libro che lui scrive, è il Vangelo e nel Vangelo di Giovanni troviamo trascritte queste parole che Gesù pronuncia incontrando Nicodema perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo onigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna e poi noi ricordiamo molto bene il versetto 16 e il 17 forse qualche volta ci sfugge nel versetto 17 viene detto infatti Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare il mondo ma perché il mondo si è salvato per mezzo di lui questo testo di Gesù con il quale spiega Nicodemo qual è la volontà di Dio nei confronti dell'umanità contiene in una sintesi estrema il messaggio dell'Apocalisse Dio ha tanto amato il mondo e in questo suo amore è stato disposto a non rinunciare a niente pur di salvare questo mondo in questo testo ci viene ricordato che comunque esiste ancora la morte perché Dio ha tanto amato il mondo e la sua intenzione è che tutti abbiano la vita eterna la sua intenzione è di salvare il mondo però bisogna anche prendere atto che qualcuno perirà perché chiunque crede in lui non perisce ma chi non crede ha una sorte diversa dalla salvezza questo testo racchiude l'Apocalisse la cosa interessante però è che noi l'Apocalisse non sempre l'abbiamo associata a questo testo e comunque quando usiamo la parola Apocalisse non è questo che ci viene in mente immediatamente anzi l'Apocalisse penso che dobbiate mandare avanti voi il powerpoint perché non riesco a mandarlo avanti grazie perché quando noi pensiamo alla parola Apocalisse ciò che evoca la parola è un po' diverso dalla salvezza in realtà l'Apocalisse è come significato generalmente è associata all'idea di fine del mondo di catastrofe è associata a delle espressioni una visione di Apocalisse quando guardate le immagini che i media ci propongono rispetto alla guerra in Ucraina che si vedono tutti questi palazzi distrutti questa devastazione della guerra abbiamo una visione diciamo di Apocalisse oppure quando abbiamo vissuto una notte veramente terribile travagliata diciamo una notte da Apocalisse o ancora o ancora siamo abituati a dire sembrava venuto il tempo dell'Apocalisse sono tutte espressioni nelle quali noi usiamo la parola Apocalisse per fare riferimento a qualcosa di drammatico di catastrofico di disastroso e non è sorprendente che quando noi quando noi facciamo riferimento quindi a questa parola ci tremino le gambe e abbiamo paura però però in realtà come vi ho avuto modo di rappresentare prima l'Apocalisse è collegato strettamente con il Vangelo e andiamo alla diapositiva successiva che ha un significato diverso nonostante i contenuti che sono stati rappresentati invece normalmente l'idea di catastrofe, di distruzione, di tragedia per esempio sono ben resi da alcune opere anche artistiche come per esempio questo famoso film del 1979 che è stato diciamo preparato di cui il regista era Francis Ford Coppola che tra l'altro ricorda un evento catastrofico per la storia dell'umanità la guerra in Vietnam e si è deciso di intitolarlo Apocalypse Now e quindi evocando ancora una volta questa dimensione e se voi andate a avete la curiosità e avete il piacere di leggere alcune opere in particolare sull'Apocalisse una mi sembra particolarmente interessante nella quale il professore Piero Stefani un biblista e docente della facoltà teologica almeno dell'Italia settentrionale che è stato qui nel 2019 per un'altra edizione del Bibbia Festival lui dice che ci sono diversi film che fanno riferimento all'Apocalisse i quattro cavalieri dell'Apocalisse per esempio già nel 1916 di un autore spagnolo Vincente Blasco Ibagnet oppure un altro film che conosciamo molto bene che si chiama The Day After dell'83 e poi tra il 96 e il 98 ci sono una serie di film che parlano e offrono una visione apocalittica del mondo e culmina questo periodo queste produzioni di film che hanno come ispirazione l'Apocalisse e culmina con Armageddon il film Armageddon nel 1998 Armageddon è è una parola dell'Apocalisse credo che forse prima del film erano in pochi a conoscere questa parola ma è una delle guerre che viene segnalata in Apocalisse la cosa interessante è che tutti questi film notatelo sono prodotti cosa ho detto questi ultimi almeno tra il 1996 e il 1998 vi fa pensare a qualcosa? che cosa? sono prodotti in un'epoca nella quale se vi ricordate credo che tutti quanti noi lo abbiamo vissuto eravamo un po' in ansia per l'anno 2000 che sarebbe arrivato vi ricordate? l'anno 2000 l'anno 2000 il bagot del millennio qualcuno diceva c'è la fine del mondo eccetera eccetera e quindi c'era una paura un timore e chi deve vendere film chi fa del diciamo di alcune forme d'arte anche un elemento per il quale è necessario avere un reddito ha sfruttato anche il momento quindi l'apocalisse è decisamente associata e ha l'idea che c'è una fine una fine drammatica che ci terrorizza che ci fa paura l'apocalisse è stata anche oggetto dell'attenzione possiamo andare avanti è stato anche oggetto dell'attenzione di altri studiosi nella storia Dante stesso cita diverse immagini e diversi episodi dell'apocalisse dell'apocalisse nel nella divina commedia in particolare nell'inferno al canto 19 nel purgatorio canto 29 30 32 con delle immagini specifiche e queste immagini sono riferite anche e vengono usate anche per rivolgere una critica alla chiesa del suo tempo e per questo che il pastore Adelio Pellegrini un collega e un caro amico tra l'altro dice che Dante è probabilmente anche uno dei personaggi che possiamo inserire nel nel percorso della riforma della chiesa tra l'altro non so quanti di voi lo sapessero ma Dante è stato anche inquisito sottoposto all'inquisizione quindi c'è tutto un mondo relativamente all'apocalisse che ha attratto l'attenzione delle persone e degli studiosi non solo quindi nei film e nella letteratura ma anche per esempio nell'arte possiamo andare alla depositiva successiva anche nell'arte c'è Albrecht Dürer un 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 artista un disegnatore tedesco ha realizzato un libro unicamente per parlare dell'apocalisse unicamente fatto di xilografie lui ha disegnato queste xilografie se andate su internet e volete andare a consultare ce ne sono 14 io le ho usate nella mia presentazione di oggi in queste xilografie tra l'altro vengono a rappresentare i diversi momenti dell'apocalisse e anche anche in queste rappresentazioni che lui fa sicuramente viene trasmessa una certa ansia una certa paura l'apocalisse come momento drammatico per l'umanità e non possiamo negare che l'apocalisse abbia un linguaggio inquietante cioè si parla di bestia di dragone di serpente qui ho inserito alcuni alcuni brani no ci sarà una bestia che arriva dall'abisso e farà guerra contro i santi ci sarà una battaglia tra Michele e i suoi angeli contro il dragone nel cielo e poi il dragone il serpente antico che è chiamato diavolo e satana questo seduttore fu gettato giù fu gettato sulla terra con lui furono gettati i suoi angeli cioè c'è un racconto che sicuramente ci porta ad avere una preoccupazione usa un linguaggio che ci fa paura e andiamo alla diapositiva successiva appunto come abbiamo detto c'è Armageddon la famosa battaglia terrificante si parla di guerre di battaglie si parla dei demoni che influiscono su queste battaglie che spingono la battaglia si parla anche andiamo avanti di flagelli di morte di distruzioni ci sono terremoti disastrosi che sconquassano la terra cose mai viste la grandine insomma indubbiamente nell'apocalisse troviamo un messaggio drammatico tragico di distruzione una tragedia sicuramente però la cosa curiosa è che in verità la parola apocalisse non significa disastro catastrofe tragedia non è questo il significato della parola no in realtà l'apocalisse e andiamo alla prossima diapositiva prende il titolo dalla prima parola del primo versetto che è rivelazione rivelazione di Gesù Cristo rivelazione questo è è fondamentale averlo in mente perché la parola apocalisse andiamo alla diapositiva successiva è un termine che viene diciamo trasportato nella nostra lingua dal greco e in greco ha un significato preciso cioè è composto dal verbo kalüptein che significa coprire avvolgere velare e che è preceduto dalla posizione apo che indica invece il fatto di rimuovere di allontanarsi da e quindi nella parola che stiamo analizzando apocalisse ha un significato privativo per cui indica il gesto di togliere il velo quindi il senso del termine è rendere visibile ciò che era nascosta quindi rivelare e rivelazione è la traduzione di apocalisse in altre lingue tra l'altro la cosa curiosa è che l'ultimo libro della Bibbia si chiama appunto non apocalisse ma rivelazione in inglese in tedesco si chiama rivelazione e chi si avvicina alla Bibbia inglese per esempio rimane sorpreso perché magari è abituato a sfogliare adesso vado a leggere un testo dell'apocalisse e cerca apocalipsi apocalipse pensando apocalipse now e invece non la trova perché perché c'è revelation che è un altro termine ecco l'apocalisse è una rivelazione una rivelazione un mostrare qualcosa che prima non era possibile vedere e in questo e andiamo avanti con le diapositive l'apocalisse è anche un testo profetico e bisogna che però anche lì facciamo una breve riflessione perché anche la parola profetico può indurci e può ingannarci indurci in errore e ingannarci perché profetico se in greco ha ha una radice specifica che non ha il significato che gli diamo abitualmente noi la profezia immaginiamo subito qualcosa che è legato alla predizione all'anticipazione invece è importante ricordare che invece la parola profezia significa parlare per prima di tutto viene da profero dal verbo profero da cui abbiamo anche il verbo italiano proferire che quindi vuol dire parlare per il profeta è qualcuno che parla che parla per Dio e ovviamente dato che la profezia rivela le intenzioni di Dio e l'apocalisse rivela le intenzioni di Dio nei confronti dell'umanità chiaramente si identifica la predizione ma non è solo questo il contenuto che noi andiamo a cercare di fatti se noi andiamo a riprendere il versetto 1 del capitolo 1 dell'apocalisse andiamo alla diapositiva successiva noi abbiamo il termine rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve quindi il contenuto di predizione ma andiamo avanti ancora quella predizione lui l'ha fatta conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni e Giovanni che è il profeta quindi che proferisce che parla per Dio attesta che è la parola di Dio e la testimonianza di Gesù ed è tutto ciò che ha visto ed è per questo che il versetto 3 ci dice beato chi legge beati quelle che ascoltano le parole di questa profezia che non dobbiamo quindi includere soltanto con l'idea di predizione ma dobbiamo includere con l'idea di parola di Dio pronunciata da Giovanni è importante questo perché l'apocalisse è una parola di Dio sulla storia dell'umanità che Giovanni ci rivela se noi perdiamo questo elemento perdiamo una parte del del messaggio che c'è in questo libro e rischiamo di farci travolgere invece dal senso comune dal significato che diamo di solito alla parola apocalisse che è catastro in realtà l'apocalisse non è solo un libro di catastro e per capirlo dobbiamo anche andiamo avanti dobbiamo fare riferimento a qualcos'altro dobbiamo fare riferimento a qualcos'altro e qui riprendo una citazione di Piero Stefani in questo suo libro sull'apocalisse che ci dice qualcosa di essenziale che molti commentatori dicono che avrete sentito anche ripetere qualche volta da qualche collega o da qualche altro predicatore e cioè che al di là di tutto quello che è il contenuto dell'apocalisse inquietanti immagini riferimenti eccetera numerici simboli eccetera la cosa fondamentale che noi dobbiamo avere in mente oltre a quello che ho detto prima cioè che l'apocalisse quindi è ciò che Dio vuole far sapere agli uomini attraverso il suo servitore Giovanni la cosa fondamentale per capire l'apocalisse è sapere che Giovanni ha in mente un riferimento preciso quando scrive l'apocalisse e i suoi lettori anche e questo riferimento è l'antico testamento è la Bibbia che lui possiede Giovanni scrive alla fine del primo secolo ancora tutto il canone del nuovo testamento non è completamente definito e quando lui scrive ha in mente la storia della salvezza che è stata rivelata nei libri delle scritture ebraiche e Piero Stefani dice per leggere l'apocalisse bisognerebbe trovarsi già pieni di altre parole bibliche in grado di risuonare dentro in modo non dissimile a quello che fu sperimentato dall'autore cioè se uno vuole leggere l'apocalisse e non ha una cultura dell'antico testamento non conosce l'antico testamento non ha letto l'antico testamento non lo ha in qualche modo anche fatto proprio nella sua esperienza beh l'apocalisse risulta un libro ostico difficile da capire infatti andiamo avanti l'apocalisse impregnata di antico testamento animali personaggi nomi oggetti luoghi immagini rappresentazione eventi numeri sono tutti ripresi dalle scritture ebraiche che erano sicuramente conosciute da Giovanni e che anche i suoi lettori avevano in mente per cui per capire l'apocalisse bisogna essere impregnati di antico testamento e lì nell'antico testamento troviamo tutto questo contesto tranne una cosa che viene invece inserita dall'apocalisse che è la cosa nuova dell'apocalisse andiamo avanti l'elemento nuovo che viene dichiarato fin dalle prime parole dell'apocalisse è la rivelazione di Gesù Cristo e Gesù Cristo è l'elemento nuovo dell'apocalisse che è annunciato nell'antico testamento ma che non è ancora compiuto è il Messia quindi sappiamo che era il Cristo se vogliamo usare un termine greco quindi il Messia o Cristo che sono due parole equivalenti ma non aveva un nome che invece nell'apocalisse ha che sarebbe Gesù nell'antico testamento non c'era il nome di Gesù di un personaggio storico incarnato c'era il Messia ma non una persona e da questo punto di vista la forza dell'antico testamento che propone tutta la storia della salvezza e che viene rivelata da Gesù Cristo è confermata dall'idea che l'apocalisse essendo l'ultimo libro della Bibbia viene a chiudere il percorso della salvezza e di fatti l'apocalisse dice io sono l'alfa e Gesù dice io sono l'alfa e l'omega e dobbiamo ricordarci in questo caso che per alfa e omega intendiamo io sono l'inizio e la fine e dobbiamo ricordarci che Giovanni in che modo Giovanni 1 in che modo apre il suo Vangelo e il prologo Giovanni 1 1 nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio e tutte le cose sono state fatte per mezzo di Dio la Genesi e la fine l'omega la chiusura questo è un elemento importante è un elemento importante perché l'apocalisse vuole parlare a noi come credenti e vuole parlare a noi come esseri umani e in questo non riprenderò tutte le immagini dell'Antico Testamento perché sarebbe molto lungo e poi in questo percorso che faremo sicuramente altri affronteranno queste immagini o questi simboli o tutti i riferimenti dell'Antico Testamento ma ce n'è uno che a me è parso fondamentale e pare fondamentale e il riferimento a un salmo importantissimo perché è il salmo che traduce quella che è l'esigenza umana alla quale l'apocalisse risponde e il salmo è il salmo 73 nel salmo 73 viene espresso una sofferenza dell'uomo che poi l'apocalisse riprende e porta a un compimento se andiamo alla diapositeva successiva il salmo 73 per chi se lo ricorda comincia così come buono Dio con Israele come buono con i puri di cuore un assieme Dio è buono è buono con Israele è buono con chi è puro di cuore bellissimo però dal capitolo dal versetto 2 iniziano i problemi perché perché il salmista dice per poco non sono inciampato un attimo e sarei caduto cosa è successo sarei caduto perché ho visto il successo dei malvagi perché la dichiarazione è Dio è buono è buono con i puri di cuore e poi dice il versetto 3 invece i malvagi hanno successo li ho invidiati quegli arroganti non hanno preoccupazione di morti il loro corpo è integro e sano non conoscono le pene degli uomini non soffrono come gli altri l'orgoglio è per fare è per loro un ornamento la violenza il loro costume sono sazi diventano superbi dal loro cuore trabocca cattiveria deridono tutti e dicono cose malvagi ti riguardano dall'alto in basso e ti minacciano e poi andiamo avanti versetto 9 con la loro bocca arrivano al cielo la loro lingua va per tutta la terra per questo il popolo li segue e beve senza misura la loro fonte dicono che ne sa Dio conosce forse qualcosa all'altissimo e questi sono i malvagi raccolgono rinchezza e se la passano bene in vano dunque ho osservato retto il mio cuore e in segno di innocenza ho lavato le mie mani e se poi un giorno subisco correzioni ogni mattina ricevo e se poi ogni giorno subisco correzioni ogni mattina ricevo un castigo se dicessi di voler ragionare come quelli tradirei la generazione dei tuoi figli volevo capire tutto questo ma era troppo difficile per me questo salmo riferisce della nostra condizione umana in cui c'è una dichiarazione in cui sappiamo che Dio è buono che coloro che fanno il bene riceveranno bene e poi dopo guardiamo la vita intorno a noi e ci poniamo una grande domanda perché? perché devono venire a morire sulle nostre spiagge i bambini? perché sono stato colpito dal cancro io che ho sempre seguito le regole della salute? perché è venuto meno il mio compagno la mia compagna mio marito mio fratello mio figlio che cosa ho fatto di male? e perché invece i malvagi delinquenti godono non si preoccupano di niente hanno successo si arricchiscono e io invece devo penare per arrivare alla fine del mese perché? non avete voi qualche volta avuto questo stesso pensiero e lo stesso pensiero del salmista ma il mondo è ingiusto è ingiusto noi viviamo una grande ingiustizia e dentro di noi il cuore ci si ci si inaccerbisce siamo arrabbiati delusi siamo distrutti dalla visione del male che trionfa e il salmista dice per poco non sono caduto io volevo capire ma era tutto troppo difficile questo è il dramma dell'umanità e non lo viviamo solo quando ci troviamo in guerra e siamo costretti ad abbandonare il nostro paese come alcuni dei nostri fratelli che sono qui presenti questa mattina hanno dovuto fare non solo quando abbandoniamo il nostro paese perché economicamente non abbiamo le risorse per vivere non solo quando quando ci capitano delle cose che ci disarmano ci distruggono quando incontriamo delle persone che con le loro parole arroganti ci fanno sentire male che non sopportiamo noi portiamo tutta questa sofferenza e per noi è complicato è difficile qualche volta ci viene da pensare che la vita sia un disastro che non c'è luce in fondo al tunnel e però il salmo al versetto 17 andiamo avanti dice qualcosa cosa di fondamentale che lo collega profondamente intimamente all'apocalisse perché dice ho capito era troppo difficile per me ma ho capito a un certo punto ho capito dice il salmo l'ho capito e ho capito questo quando ho visto quale sarà la loro fine dove in che momento quando sono andato nel santuario di Dio e io ho letto tante volte questo questo salmo e mi sono detto ma perché il santuario di Dio che cosa vuol dire se non leggete l'apocalisse non lo capito adesso lo vedremo l'apocalisse è Dio nel suo santuario è Dio nel suo santuario ed è per questo che nell'apocalisse leggiamo che Dio li fa scivolare li fa andare in ruine e in un attimo sono distrutti finiti e spazzati via dallo spavento come un sogno quando ci si risveglia la loro immagine è svanita quando ero pieno di amarezza ed ero tormentato ed era tormentato il mio cuore ero solo uno sciocco non ti capivo ero stupido come una bestia dice il salmista e se andiamo alla diapositiva successiva noi possiamo leggere ma io io sono sempre con te tu mi hai preso per mano e con il tuo consiglio mi guiderai e poi mi riceverai nella gloria chi ho in cielo al di fuori di te con te null'altro desidero sulla terra anche se il corpo e la mente vengono meno tu sei la roccia della mia vita la mia ricchezza per sempre o Dio chi è lontano da te è perduto e tu distruggi chi ti abbandona ma per me è bello stare vicino a Dio trovo nel Signore il mio rifugio per poter celebrare tutte le tue apri è fantastico come questo questo salmo è il salmo al quale l'Apocalisse fa riferimento perché se voi andate a leggere in Apocalisse andiamo alla diapositiva successiva io ho capito quando sono entrato nel santuario e l'Apocalisse al capitolo 1 versetto 12 ci fa vedere che Gesù Dio è nel suo santuario vedi sette candelabri in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio al duomo e continuando al versetto 12 io mi voltai per vedere chi mi stava parlando come mi fui voltato vedi sette candelabri d'oro in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio al duomo vestito con una veste lunga fino ai piedi cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come la lana candida come neve i suoi occhi erano come fiamma di fuoco i suoi piedi erano simili a bronzo incandescente e arroventato in una fornace e la sua voce era come fragore di grandi acque la prima visione che Giovanni ha nell'apocalisse si innesta sul testo del versetto 17 del salmo 73 perché è Dio nel suo santuario è Gesù nel suo santuario in questo senso Jacques Ducan uno studioso dell'antico e del nuovo testamento dice quanto segue la prima visione dell'apocalisse riprende la trama degli ultimi capitoli di Daniele ritroviamo la medesima descrizione del figlio al duolo di quella che troviamo in Daniele 714 la figura richiama il soccimo sacerdote in funzione nel giorno del Kippur e poi aggiunge i capelli bianchi sono la rappresentazione di Dio giudice che cos'è il giorno del Kippur ve lo ricordate? eh? il giorno delle spiazioni il giorno nel quale Dio compiva il suo gesto di salvezza nei confronti del popolo e dice così il decimo giorno levitico capitolo 23 versetto 27 il decimo giorno di questo settimo mese sarà il giorno delle spiazioni avrete una santa convocazione vi umilierete e offrirete al Signore dei sacrifici consumati col fuoco in quel giorno non farete nessun lavoro perché è un giorno di spiazione destinato a fare spiazioni per voi davanti al Signore che è il vostro Dio poiché ogni persona che non si umilierà in quel giorno sarà tolta via dalla sua gente è il giorno della separazione vi ricordate quella della separazione dei due capri il capo per Dio e il capo per Azazel e poi se andate a leggere levitico 25 il giorno delle spiazioni è anche il giorno che apriva il giubileo il giorno delle spiazioni ogni 49 anni apriva l'anno giubilare quello della festa della remissione dei peccati della salvezza Gesù è nel Tempio come Sommo Sacerdote per celebrare il giorno delle spiazioni i capelli bianchi sono Dio che giudica è Dio che è presente per giudicare la storia e qui abbiamo ancora una volta nell'Apocalisse la rappresentazione del santuario perché se andiamo alla dispositiva successiva in Apocalisse 11 19 viene fatto un riferimento specifico allora il Tempio di Dio che è in cielo si aprì e nel suo Tempio apparve l'arca del suo patto era il giorno dell'espiazione l'unico giorno in cui si poteva il Sommo Sacerdote entrava nel Tempio e arrivava fino davanti all'arca per chiudere il percorso della salvezza e qui è importante è importante avere in mente tutto questo perché i malvagi esistono e se andiamo a rileggere il Salmo e rileggiamo l'Apocalisse mettendo in parallelo andiamo alla diapositiva successiva mettendo in parallelo i due testi vediamo per esempio che con la bocca i malvagi arrivano fino al cielo la loro lingua va per tutta la terra e per questo il popolo li segue e dall'altra parte abbiamo la bestia che cosa fa che diceva chi può essere simile alla bestia le fu data una bocca che proveriva parole arroganti e bestemmi ed essa aprì la bocca per bestemmiare Dio e per bestemmiare il suo nome il suo tabernacolo e quelli che abitano in esse e l'adoreranno tutti gli abitanti della terra è sorprendente questo parallelo di questi malvagi che parlano male di Dio e di questa bestia che parla male di Dio quindi l'abbiamo rappresentata qui e se e se andiamo in questa direzione noi capiamo che Dio sta affrontando il tema della nostra sofferenza di fronte al male in Apocalisse 18 19 e 20 viene detto andando alla diapositiva successiva la grande città nella quale tutti quelli che avevano navi in mare si erano arricchiti con la sua opulenza e cosa sono i malvagi sono quelli che si arricchiscono alle spalle degli altri e in quel brano dell'Apocalisse ci viene detto rallegrati o cielo per la sua rovina voi santi apostoli profeti rallegratevi perché Dio giudicandola vi ha reso giustizia e poi c'è nell'Apocalisse la descrizione di che cosa succede a a questa generazione malvagia in Apocalisse 18 21 leggiamo poi un potente angelo sollevò una pietra grossa come una grande macina la gettò nel mare dicendo così con violenza sarà precipitata Babilonia la grande città e non sarà più trovata è l'annientamento di cui parla di cui parla il testo del Salmo 73 al versetto 18 andiamo alla diapositiva successiva ecco tu li fai scivolare li fai andare in rovina in un attimo sono distrutti finiti spazzati via dallo spavento come un sogno quando ci si sveglia la loro immagine è svanita signore l'Apocalisse in tutti i suoi drammi rappresenta come Dio farà scomparire il male dalla faccia dell'umanità come Dio risponderà alla nostra sofferenza di fronte all'ingiustizia di cui siamo testimoni tutti i giorni nella nostra vita Dio cancellerà il male il malvagio e l'Apocalisse è continua perché dice Dio vince no? ci fu battaglia nel cielo Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone e riferisce le vittorie che ci sono e il dragone non vinse non ci fu più posto per loro nel cielo e l'Apocalisse assicura anche un'altra cosa che è l'anelito del Salmo 73 andiamo alla diapositiva successiva se li mettiamo in parallelo è interessante Salmo 73 dica ma io sono sempre con te tu mi hai preso la mano con il tuo consiglio mi guiderai poi riceverai nella gloria chi ho in cielo all'infuori di te con te null'altro desidero sulla terra e ricordatevi che nell'Apocalisse viene detto ecco io sto alla porta se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta io entrerò da lui e cenerò con lui e lei con me io sono sempre con te e si udì una gran voce è il trono di Dio con gli uomini egli abiterà con loro essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio cioè non ci sarà più separazione tra gli uomini tu sarai sempre con me diceva il salmista e l'Apocalisse dice è vero sarà così è così che si chiude la storia ed è per questo che l'Apocalisse ribadisce insiste su questo e esordisce con questo pensiero egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà lo vedranno anche quelli che lo trafissero finalmente finalmente e poi conclude andiamo alla diapositiva successiva poi vedi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero perché giudica e combatte con giustizia e questo è il punto giudica e combatte con giustizia quella giustizia a cui tutti aspiriamo e che non vediamo realizzata nella nostra vita nella storia perché i malvagi trionfano e noi siamo tentati di fare come i malvagi e l'Apocalisse al capitolo 21 5 a 8 aggiunge andiamo avanti di due diapositive per piacere e colui che siede sul trono disse ecco io faccio tutte le cose ogni cosa è compiuta io sono l'Alfa l'Omega il principio e la fine a chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita e il Salmo 73 ricordava tu sei colui che sei la mia roccia da dove veniva l'acqua della vita per Israele vi ricordate l'episodio dalla roccia dalla roccia chi vincere dirà queste cose io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio e questo è il messaggio dell'Apocalisse e ancora andando avanti ecco io vengo presto e con me avrò la mia ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere io sono l'Alfa e l'Omega beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città l'Apocalisse è il racconto della salvezza è il racconto di come Dio chiuderà la storia portando la Gerusalemme celeste sulla terra risolvendo il problema drammatico della storia che è l'ingiustizia prodotta dal male che è entrata nel mondo è l'adempimento e la verifica di quel testo che troviamo appunto in Giovanni 3,16 che abbiamo citato all'inizio andiamo alla diapositiva successiva perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna e l'Apocalisse è il testo che dice eccola la vita eterna la partita registrata la partita di calcio noi quando guardiamo una partita di calcio c'è qualcuno che dice no no perché c'è qualcuno che ama lo sfrigolio dell'ansia della paura di non sapere come va a finire quindi c'è qualcuno che dice non mi dire il risultato no non lo voglio sapere voglio guardarmi la partita ma non la voglio sapere ma io quasi quasi adesso che ho una certa età preferisco registrarmi la partita sapere i risultati e guardarmi la partita e in questo l'Apocalisse è un po' è estremamente moderna perché l'Apocalisse è come la partita registrata vi fa vedere la storia facendovi sapere che il risultato è assicurato che la tua squadra vincerà che la tua squadra ha vinto e allora ti godi la partita e dici ecco adesso fanno gol adesso vincono questo è l'Apocalisse l'Apocalisse è il libro che chiude la storia dell'umanità per far sì che noi possiamo avere la consolazione per far sì che noi possiamo essere tranquilli quando dentro di noi il nostro cuore è in rivolta perché come dice bene il salmista siamo distrutti dalla visione del male siamo distrutti dalle questioni che non riusciamo a risolvere e non riusciamo a capire l'Apocalisse risponde dicendo la vittoria è mia e possiamo andare alla diapositiva successiva Gesù dirà in Giovanni vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me nel mondo avrete tribolazione ma fatevi coraggio io ho vinto il mondo l'Apocalisse è il libro che ci dice che la vittoria appartiene a Dio e a tutti noi che abbiamo creduto in Lui e a tutti coloro che vorranno credere in Lui nessuno esclude la partita è vinta ce la possiamo guardare registrata e e e sarà un bello spettacolo ve lo assicuro e ce lo assicura è il Signore che questo pensiero ci accompagni e ci aiuti a vivere la rivelazione di Dio con la gioia e la felicità che Egli vuole dare ad ognuno di noi amén amore amore è dare amore è sacrificio di sé amore è saper soffrire amore è luce amore è fedeltà amore è giustizia amore amore è gioia nella speranza amore è pace amore è obbedienza amore è bontà e fedeltà amore è umiltà amore è verità Dio è amore Dio mi ha amato ho veduto ho veduto l'amore in una croce l'ho veduto nella mia vita data per la mia data per la mia l'ho veduto in Gesù che ora vive l'ho veduto e l'ho afferrato amore è dare amore è sacrificio di sé amore è saper soffrire amore è luce amore è fedeltà amore è giustizia amore è gioia nella speranza amore è pace amore è obbedienza amore è bontà è fedeltà amore è umiltà amore è verità Dio è amore Dio mi ha amato ho veduto l'amore in una croce l'ho veduto nella sua vita data per la mia data per la mia l'ho veduto in Gesù che ora vive l'ho veduto e l'ho afferrato e per finire la Bibbia dice che l'amore è questa verità ma l'hai tu afferrata amore è obbedienza amore è bontà è fedeltà amore è umiltà amore è verità amore 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 ci vogliamo alzare per pregare e per pregare userò le parole di di una lettera di Paolo ai Tessalonicesi capitolo 4 versetti 13 a 18 fratelli non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono affinché non siate tristi come quelli che non hanno speranza infatti se crediamo che Gesù morì e risuscitò crediamo pure che Dio per mezzo di Gesù Cristo ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati perché questo vi diciamo mediante la parola del Signore noi viventi i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo quelli che si sono addormentati perché il Signore stesso con un ordine una voce d'arcangelo con la tromba di Dio scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore per l'aria nell'aria e così saremo sempre con il Signore consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole amin grazie a tutti Alla prossima 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 Alla prossima